Iari, allora cosa mi racconti? Ma è un periodaccio questo, noi guarda in questo mese qua lo vediamo veramente poco, è sempre stato così, però quest'anno guarda proprio c'è una crisi, si sente, si sente quando c'è crisi, perché... Ah, hai provato a fare pubblicità? Ma guarda io pubblicità la faccio, magari la faccio nella maniera sbagliata, non lo so, però... Guarda, io sono nel settore, ti faccio vedere come si fa. Ma adesso... Ma ci penso io? Ma adesso? Guarda, guarda. Cosa fai adesso? Buongiorno, salve. Salve. Eh, ma volevo presentare il nostro negozio di animali, venga qui. Ma guarda io veramente non ho già... Ma aspetti che io non ci ho fatto, ah, non aspetta! Venga, venga, venga! Salve! Salve, 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 piacere i vari, piacere. Allora, ascolti, ascolti, sai quanto invece di andare in tanti, sfusi. Quindi lei va adesso a andare in città, ascolti un attimo, ti faccio finire il po' l'altro. Guardi, abbiamo... I collari, i collari, abbiamo tutto scontato al 50%, facciamo toletatura, noi il cane addirittura andiamo a prendermelo a casa. E pernamorato noi tociamo. Piùasi tu non ho bisogno e š absoluto il carino. Ma guarda, quando lì mi sono in offerta mi prende due e un in omaggio, abbiamo il cappuccino. Ho capito, Mario? Ho capito, Mario? Ma io solo faccioprisesi poche 50%, c'è una pezzata di Vibso. Ma io però, avrei sottuto Daily International, perché lui andiamo a prendere il caffè, ma io riesco a executive e me dico, che non c'ha di Mario, wasp Augustos, ah Vedi che è semplice, basta poco